Questo weekend è stato un weekend particolare, a termine di una settimana dove praticamente abbiamo giocato tutti i giorni, non sempre con stesse ragazze, però tendenzialmente la gestione di tutte le ragazze, io personalmente ho fatto 7 partite in 7 giorni, niente inerente a Serie C, abbiamo giocato contro la prima in classifica, in brebate sopra, di Bergamo. Una squadra esperta, tosta, il primo set ci hanno martoriato, ho fatto delle scelte di mettere in campo i giocatrici che erano presenti nel corso della settimana perché c'è stata qualche malattia, qualche assenza e purtroppo ci siamo fermati a 12, è stato un set molto deludente, al che ho ripreso le ragazze in modo un po' energico, loro hanno capito, hanno cercato di metterci qualcosa in più, tant'è che il secondo set, cambiando chiaramente anche qualche elemento, ci siamo portati a casa. Abbiamo preso di sorpresa loro, loro non si aspettavano questa reazione e il terzo set eravamo avanti anche di 3, 4, 5 punti e come al solito ci manca la cattiveria, l'esperienza di mantenere il vantaggio e portarci al final 25 permettendo all'altra squadra di recuperare e lì in questi frangenti qua purtroppo commettiamo ancora troppi errori. Ma ci sta, ci sta perché non posso ridurre un colpo d'attacco solo perché hanno paura di sbagliare o farci prendere a questo patema, una squadra giovane deve avere il coraggio di voler concludere una palla. Il quarto set diciamo che abbiamo giocato la Paris, sempre stati a vantaggio e il loro sorpasso è venuto a seguito di due sviste arbitrali abbastanza clamorose e poi non siamo stati capaci, non abbiamo avuto la cattiveria necessaria per comunque stare dentro di testa e quindi si è conclusa 25 a 23. Però la prestazione è stata buona, devo dire che abbiamo giocato alla Paris se non fosse meglio del brembate quindi questa cosa qua mi dà una buona sensazione per quanto riguarda la 18 e la 16. Poi domenica abbiamo giocato con la 14 la finale per il terzo posto, a livello provinciale abbiamo giocato con il bisogno e personalmente ho dovuto sostituire Balestra che aveva febbre. Diciamo che il bello del nostro staff è che comunque sia che vada in panchino o lui in panchina le ragazze non dipendono né dall'uno dall'altro ma siccome il linguaggio, lo stesso linguaggio, le pretese su se stesse riescono a esprimersi al meglio e devo dire che è stata una finale un po' atipica nel senso che i punteggi sono stati molto bassi se non sbaglio mi hanno avuto 3-7 a 12, 12-10 ma questo non perché il bisogno non sia una buona squadra anzi ritengo che noi siamo stati molto bravi, siamo stati bravi a cancellare la delusione della semifinale e abbiamo giocato una buona pallavolo per l'età permettendo chiaramente anche di giocare un po' tutte quante e niente siamo comunque contenti considerando poi l'esclusione di due o tre ragazze abbastanza determinanti del gruppo per infortuni improvvisi, pertanto diciamo che comunque il weekend possiamo essere contenti ora ci prepariamo a martedì, martedì abbiamo la seconda partita della prima fase regionale andiamo a Porto Mantovano, sono Mantova 2 non so sulla carta se avrebbe una partita alla nostra portata però è ogni partita alla sua quindi sono curioso di vedere se il lavoro fatto in C ci proietta per poi il club che sarà contro il vero volley mercoledì successivo e poi giovedì abbiamo l'anticipo della serie C perché avendo le finali provinciali della serie C sabato non possiamo giocare in C quindi giocheremo giovedì sera questo è un po' il programma della settimana ci siamo allenati stasera e ci alleneremo mercoledì venerdì tengo a riposo le ragazze in preparazione riposo in modo che si rilassano un attimo per la partita di sabato per comprare la notizia in modo che non ho perfetto e se volvete non ricordo Grazie a tutti.